Si raccontano favole ai bambini per farli addormentare, agli adulti per farli svegliare. Marina Valcarenghi, psicoterapeuta e psicoanalista, a partire dal 1994 per la prima volta in Italia, ha introdotto in carcere la cura psicoanalitica, ovviamente come libera scelta, rivolta a uomini detenuti in reparti di isolamento. Indifferente all'ortodossia, le interessa sperimentare e portare la psicoanalisi anche fuori dagli studi professionali. Tra le sue pubblicazioni, Il coraggio della felicità, edizioni Bruno Mondadori, I manicomi criminali, edizioni Mazzotta, per Bruno Mondadori, ha pubblicato ancora L'aggressività femminile, l'insicurezza, la paura di vivere nel nostro tempo, Ho paura di me, il comportamento sessuale violento e mamma non farmi male, ombre della maternità. Questi sono solo alcuni dei testi pubblicati da Marina Valcarenghi, che è qui con noi questa sera, anzi, noi siamo qui con lei questa sera, perché siamo a Milano, nel suo studio. Ciao Marina, grazie di averci accolto, di averci aperto la porta, e trovato anche la password del wifi, perché non c'era subito. Siamo stati puntuali, ma come diceva giustamente Antonello Zappatore, noi arriviamo sempre... Possiamo partire a qualsiasi ora, ma quando mancano due minuti, un minuto, ancora non abbiamo finito di sistemare. È proprio una legge fisica, direi ormai, del lupo del contadino. Sì, come la legge di gravità. Però vi vedo calmi. Sì, ma perché ormai è il nostro standard questo, arrivare a cinque secondi dall'inizio e non avere ancora la password o i collegamenti fatti. Marina, intanto benvenuta al lupo del contadino. Grazie. Grazie, un saluto a tutti voi. Il tema di stasera è un tema importante per noi, perché abbiamo, come abbiamo anticipato anche per chi ha seguito la nostra diretta in macchina mentre venivamo qui a Milano, il tema del sogno è un po' un nostro desiderio. È un grande desiderio del 2019. partito nel 2018 e sviluppato pian piano, lo svilupperemo ancora nel 2019 e anche nel 2020. Non vorremmo sembrare Walt Disney con questa frase, però percorrere il tema del sogno. Ah, dicevi il dream and do it famoso. No, i sogni sono desideri che poi Marina non gli piacerà tanto. No, la fiaba credo di sì. Poi dopo magari ne parliamo, visto che fra le varie cose Marina ha scritto un libro bellissimo di fiabe, Il buio è un cavaliere, che è una raccolta di fiabe che io utilizzo personalmente, ho sul comodino e leggo spesso a mio figlio, è un libro veramente bello. Quindi magari dopo parleremo anche di fiabe. Però il tema del sogno, Damiano. Sì, il tema del sogno, vedo che tu mi guardi con... No, perché hai qualcosa da dire. Con fare complice, ma anche giustamente sfidante, perché è una cosa a cui io tengo particolarmente. Insomma, ho rotto le scatole, ma possiamo dire anche le palle a quest'ora della sera, agli altri lupi, agli altri contadini, proprio per approfondire questo tema, sia dal punto di vista psicoanalitico, come faremo in modo meraviglioso questa sera. E anche oltre. E anche oltre. Poi ci sono tante sfaccettature, ma è poco dire sfaccettature. Credo che qui, forse introduco già un pochino la prima domanda che potremmo fare a Marina adesso, questa sera. forse il mondo dei sogni non è poi così conosciuto come sembra, ancora oggi. È stato studiato e è stato fatto tanto. Da Jung a Ilman, eccetera, 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 eccetera. Tra l'altro vedo dei libri qui intorno che sono molto, molto interessanti. Davanti a me ho anche un libro, che è il libro rosso di Carl Gustav Jung, e mi inquieta anche un po'. Poi vedo Diuma, vedo tante cose. Torniamo sul tavolo. C'è ancora da dire tanto e da fare tanto, secondo te, sul tema del sogno e sul mondo onirico? Sì, credo di sì. Come in tutte le discipline, c'è sempre da andare avanti e da capire di più. Anche perché tutto cambia. E quindi, siccome tutto cambia, cambiano anche i sogni. Cambiamo noi, cambiamo il mondo in cui viviamo, ma cambiano anche i sogni. E quindi è una ricerca continua quello che dobbiamo fare. E quindi sì, è così, manca ancora molto. Però abbiamo fatto dai tempi di Jung e di Freud dei passi giganteschi in avanti sulla comprensione del sogno, sulla simbologia del sogno. Su questo è stato fatto un lavoro enorme, che è derivato dalla consapevolezza che veramente dobbiamo molto a Jung, è questo, che non si può psicanalizzare una persona utilizzando il suo romanzo familiare e basta, ma bisogna calarlo nella realtà del suo tempo, nel suo mondo, nella sua cultura, nelle sue tradizioni. e quindi bisogna studiare storia delle religioni, bisogna studiare antropologia, bisogna studiare sociologia, bisogna conoscere la letteratura, la poesia, la mitologia, importantissima. Se no, questo mestiere non si può fare. Questo è un lavoro per appassionati, perché richiede una continua ricerca. Ma attraverso lo studio di queste discipline, noi oggi siamo in grado di capire molto meglio i sogni, perché sono simboli. Ecco, infatti la domanda, subito dopo, che è una domanda originaria, che dà anche il titolo a questa trasmissione di stasera, se tu dovessi dare una definizione, che cos'è un sogno? È una richiesta di contatto da parte dell'inconscio alla nostra coscienza. È come un messaggio lasciato nella bottiglia e lanciato così. Poi possiamo raccoglierlo o non raccoglierlo, capirlo o non capirlo, magari neanche leggerlo. Peccato però, perché ci viene sempre a dire qualcosa di noi. E perché? Perché l'inconscio non è una cosa calata dall'alto, dal cielo, una cosa strana, che non si capisce che cosa sia, dove abiti. L'inconscio è tutto quello che noi non ricordiamo più, non abbiamo mai saputo di noi, ma che altri hanno saputo di noi e che noi abbiamo interiorizzato. quindi è una massa di sapere che è rimasta, che non possiamo ricordare, non possiamo ricordare tutto. Per esempio, non possiamo ricordare i primi anni di vita, no? adesso sappiamo anche che il feto ha delle reazioni psicologiche che figuriamoci se possiamo ricordare quelle. Quindi, l'inconscio ha una grande ricchezza di sapere, quindi se ci viene a dire qualcosa è perché vuole dircela. E se ci ricordiamo il sogno, vuole dire che è proprio importante che noi ne teniamo conto. però siamo liberi di non farlo. L'inconscio è... tu hai parlato in termini di passato, cioè hai parlato di ricordo. L'inconscio è solo ricordo oppure c'è una forma di tempo circolare e diversa che non guardi solo indietro? Chi lo sa. Questa è una bellissima risposta, chi lo sa. Vuol dire che, come dicevi subito, stiamo ancora studiando, stiamo ancora tentando di capire. la tua, se c'è, se vuoi, così, opinioni in base a questo? Il pensiero non è lineare, il pensiero è circolare, ormai questo si sa. E allora è possibile che noi sappiamo anche quello che deve accadere. E infatti ci sono dei sogni che possiamo capire solo dopo. Perché... Premonitori, certo. Sì, dei sogni profetici, dei sogni che annunciano qualcosa. qualcosa che probabilmente continuerà, che magari anche a livello collettivo questo succede. Posso fare un esempio? Sì, sì, anche tre. Per esempio, quello che sta succedendo è che che ho cominciato a vedere, ma che sicuramente adesso avrà un seguito nei sogni dei giovani, soprattutto, è la nascita di un senso di colpa che dovremmo elaborare per quello che sta succedendo. Perché noi stiamo assistendo a un genocidio, infatti, senza in realtà avere delle particolari reazioni. Questo genere è un senso di colpa perché si è responsabile anche di quello su cui non siamo d'accordo. Cioè tu parli di un trauma collettivo, mi sembra di capire. Sì, ma questo ha un valore abbastanza profetico, nel senso che noi non sappiamo, finché non arrivano i sogni, non sappiamo se c'è un senso di colpa da elaborare e di che genere. Quando arriva un sogno che ti dice abbiamo demolito il sacro e quindi siamo diventati, siamo regrediti a un livello primitivo e colpevole, perché la coscienza ce l'abbiamo oggi, non siamo ominidi, allora cosa succede? Che si manifestano dei sensi di colpa terribili e ho avuto un paio di sogni in questo senso. Tu personalmente? No, io ho ricevuto da pazienti. Ah, ricevuto da pazienti un paio di sogni in questo senso. dove un santuario era stato sott'acqua, un santuario era stato distrutto e lui era disperato come dice io davanti a un fatto archeologico non mi dispero così e proseguiva la ricerca sott'acqua e trovava una felpa, un orologio. Questo aspetto che è sicuramente importante è inquietante. È anche inquietante però non può avere anche degli aspetti positivi cioè intendo dire stiamo vivendo una fase di distruzione in un certo senso che può sembrare anche necessaria questa fase di distruzione cioè voglio dire questa distruzione rigenerazione può portare poi ad un nuovo sicuramente deve perché se no è sempre stato così è sempre stato così un processo dialettico si sa lo sappiamo infatti quando mi dicono tanti miei amici o anche pazienti mamma mia cosa sta succedendo è la fine del mondo ma non è la fine del mondo ma abbiamo visto molto di peggio no dopo tutto cambia come dice la canzone Mercedes la fine di un mondo sì possiamo dirlo forse la fine di un mondo perché no sì possiamo dirlo ma vediamo vediamo cosa finisce che cosa ricomincia però la cosa interessante secondo me è l'unica sicurezza che abbiamo io ne ho poche ormai è quella che tutto cambia tutto gira quindi non possiamo mai fermarci a fotografare la realtà ma dobbiamo vederla come un film non come una fotografia come una cosa che è in continuo cambiamento e ha le fasi up and down certo va bene adesso sicuramente down adesso credo che nessuno noi e anche i nostri ascoltatori non abbiano dubbi su questa cosa ne approfitto per salutare Sara Capponi che ci scrive ora in chat ciao Sara ciao Sara vorrei proprio essere là con voi ci sei Sara ci sei ci sei intanto in chat continuano a scriverci messaggi noi li leggiamo poi magari durante la serata proporremo qualcuna delle vostre domande se volete Marina potete farlo potete scrivere in chat cliccando su sulla chat esatto molto semplice dove c'è scritto chat salutiamo Tony che è sceso dal ponteggio a quest'ora della sera sono il 19.49 direi che dovrebbe aver finito ciao Tony si toglie il suo caschetto esatto il suo come si chiama il suo livello la bolla famosa ciao Tony ci vediamo presto eh sì domani ci vediamo con Tony esattamente allora ho un po' paura confesso a entrambi voi due che vi ho qui davanti perché anche adesso interloquendo con Marina e con Antonello mi rendo conto che cioè mi sento molto piccolo di fronte anche solo alla parola alla parola sogno ok dice inconscio dio mio qua adesso si apre un oceano di domande e risposte cioè di chiacchiere ok sogno uguale da questa parte si apre tutta una serie quindi faccio molta fatica ma è una bella fatica è una bella fatica a a tenere la barra ferma proprio perché il desiderio anche di capire di più di imparare di più di intendere di più è forte quindi abbiamo ascoltato il brano e prima si parlava di sogni profetici cara Marina Balcarenghi e tu hai un esempio di un sogno profetico che volevi farci sì per esempio vai una donna corre in barcavela lungo un fiume che sta arrivando al mare c'è molto vento da una sponda da una sponda del fiume c'è un uomo questo uomo urla il suo nome e chiede aiuto e ma non non si riesce a sentire bene perché c'è troppo vento perché comunque la barca non si può fermare perché è in un fiume con la barcavela ormai è preso l'avvio non si ferma e e allora la donna urla a sua volta grida a sua volta non ti sento non ti posso più aiutare non ti sento non so cosa vuoi non ti posso aiutare e continua ad andare avanti con la barcavela e finché la la sfuma il sogno e la persona si sveglia dopo tre giorni arrivano i vigili a casa di questa donna e dicono che quell'uomo è morto ma questo come si faceva a sapere tre giorni prima tre giorni prima però è arrivato questo sogno che cosa ma che cosa questo vuol dire certo si parlava del pensiero circolare si accennava ma anche ma ma dentro questo c'è proprio un nucleo importante dell'inconscio perché gli inconsci si parlano Emanuele Moccarelli dice sempre che si è in rete questo termine per dire che quando ci si mette in contatto attraverso rilassamento profondo attraverso la meditazione si entra in contatto con energie che non sono quelle della vita conscia è molto vero e se come c'era fra queste due persone un sentimento molto forte che c'era stato nel passato anche se non c'era più ma questo voleva dire che comunque era una qualcosa che questa donna pensava questa donna era in contatto con la sofferenza di quest'uomo senza sapere nemmeno in che paese era era in un paese lontanissimo un'altra parte del mondo quindi come come si fa a non a non riconoscere che è un dato empirico non è una fantasia un po' delirante new age è proprio che lo sperimentiamo che è così lo vediamo e come si fa a non essere affascinati da questo tema tornando invece al tempo lineare da A-B tu hai detto tre giorni perché non tre mesi tre settimane in linea generale così cioè esiste comunque un limite di tempo lineare per cui il sogno per monitore non è oppure posso sognare qualcosa adesso che potrà succedermi fra 37 anni e un mese bisogna aspettare 37 anni e un mese e questa è la risposta che mi merito per una domanda sciocca ti ringrazio molto ci speravo ci speravo davvero ti giuro ero un po' trabocchetto ma nei miei confronti però bella la domanda trabocchetto nei due confronti un'auto un'auto trabocchetto e non sarà l'unico della vita assolutamente Antonello Damiano questo è l'ha detto prima è uno dei tuoi temi preferiti da quando ti conosco questo dei sogni quindi per te questa è una puntata importante è una puntatona sì sì assolutamente soprattutto dopo che ho iniziato il corso della pulizia dell'aura con anche quello che hai citato prima con Emanuele che salutiamo Emanuele perché no non nominiamolo troppo perché lui dopo non si sa come reagisce sicuramente sicuramente mi si è aperto il click il click è più legato al discorso dell'amplificazione dei sogni cose che tu non tratti non ti interessa e non vogliamo non è che non interessano tante cose che non riesco a fare che non riesci a fare Antonello ti lascio un po' la bocca a te sì un'altra mia curiosità parlando è che è anche questa forse una domanda che va all'origine la domanda semplice chi è che sogna nel senso che fra le varie cose che abbiamo detto a volte sembra che la personalità di chi sogna possa sfumare in una specie di interfaccia cioè come come che il il sognatore sia un'interfaccia di qualcosa al di là non tanto il sogno come espressione della sua personalità quindi la domanda è chi è che sogna poi alla fine in fondo l'io l'io quale l'io del l'io del sognatore entra a contatto con l'inconscio perché l'inconscio esiste a prescindere dall'io evidente però se l'inconscio non parla e l'io non ascolta e l'io non registra e l'io non ricorda il sogno il sogno non c'è è questo che tu mi chiedevi quando mi dici chi sogna sì che cosa che quale parte di noi sogna allora il sogno ripeto è come dicevo prima è un messaggio che arriva da lontano dall'inconscio da ciò che di noi non sappiamo c'è c'è comunque non è che c'è perché c'è l'io c'è comunque però parla e l'io ascolta e registra e ricorda allora il messaggio dell'inconscio è trattenuto dall'io è l'io che sogna l'inconscio non è l'inconscio se no non avrebbe nessuna funzione c'è una una frase che ho sentito al corso con con Emanuele che mi sono segnato e che trovo interessante che vorrei provare a proporti Emanuele proprio diceva o forse citava che l'inconscio è conservativo tu cosa puoi aggiungere o togliere a questa affermazione è una cosa molto interessante perché l'inconscio soprattutto l'inconscio collettivo credo quello a cui si riferiva Emanuele in questo caso è sicuramente conservativo perché è la memoria di tutta la nostra storia è interessante l'inconscio collettivo adesso è sdoganato quando Jung l'ha scoperto ha avuto addosso tutti compreso Freud però anche Freud alla fine della sua vita ha dovuto riconoscere che l'inconscio collettivo esiste quindi adesso questo è una è una come si dice è una qualcosa di verificato qualche volta i sogni collettivi qualche volta l'inconscio parla in modo collettivo parla di un popolo di un gruppo di tutto il mondo di che cosa succederà di dove stiamo andando questo è molto molto visibile del resto in molti miei libri ci sono tanti sogni così che ho riferito e forse Emanuele voleva proprio dire questo che l'inconscio collettivo ha una dimensione molto conservativa perché frena perché è il portatore di un sapere che va da qui all'indietro non può andare in avanti allora anche Jung diceva che era conservativo però non faceva degli esempi vi voglio fare un esempio facciamo un esempio sulla questione della libertà femminile di tutti i diritti della vita delle donne l'inconscio collettivo cosa tiene della vita delle donne cosa ha conservato tremila anni di sofferenze di abrutimenti di sfruttamento di violenze di non riconoscimento delle caratteristiche del nostro pensiero eccetera quindi come fa una donna deve se oggi vuole fare la sua strada deve tenere conto che deve lottare contro questi aspetti dell'inconscio collettivo che sono conservativi però d'altra parte dentro dell'inconscio collettivo non c'è solo l'aspetto conservativo ma c'è anche un aspetto eterno potremmo dire così qualcosa di eterno per esempio lo spirito per esempio per esempio non so sì per esempio quindi è verissimo che c'è un atteggiamento conservativo da parte dell'inconscio soprattutto dell'inconscio collettivo ma anche personale pensate non so a un condizionamento familiare quindi appartiene alla vita di una persona come il condizionamento familiare inconscio perché va nell'inconscio perché non possiamo ricordare tutto ti insegno a essere tu vuoi fare musicista io ti insegno a essere un dirigente d'azienda uno diventa dirigente d'azienda e nella musica non si ricorda neanche più però nell'inconscio c'è questa cosa e se a un certo punto vuole suonare fa fatica perché deve superare il condizionamento culturale della sua famiglia quindi c'è c'è sempre questo ti vedo Antonello pensieroso vuole dire che non sei da stondendo la tua domanda sto elaborando io non ho mai sentito una definizione di inconscio così semplice diretta uno si crede sempre che sia chissà dove l'inconscio ma è lì in effetti è qui ok stiamo lavorando con il nostro inconscio anche adesso per fortuna e lo salutiamo anche lui ciao o lei un bacio un abbraccio almeno un abbraccio all'inconscio ogni tanto faccio espressioni strane perché io leggo anche intanto le varie cose che dicono ad esempio Sara scrive ma allora se l'inconscio collettivo è conservativo come si spiegano i sogni profetici no ma non c'entra credo un conto è quello che l'inconscio può prevedere ma può essere conservativo anche quello che può prevedere per esempio oppure no sono due sono due aspetti diversi dalla stessa realtà cioè inconscio e conservativo per quanto riguarda il passato però proprio perché conosce tutto il passato può forse più di noi più del nostro io arrivare a vedere dove stiamo andando e quindi cosa succederà Sara è chiaro si se è chiaro per me credo che sia chiaro anche per Sara e per gli altri però vedete come a me mi trema tutto perché le parole sono importanti e usare sono macini questi qua quindi basta che sbagli mezza virgola che si apre tutta una roba di cui non sapevi niente che magari non è dato sapere niente così un sospiro un sospiro diciamo aiutiamoci ecco aiutiamoci un po' aiutiamoci un po' hai citato Sara io invece leggo una domantina anche lì azzeccata da parte di Domenico che ci segue se imprenciate scrive sono molto interessato al tema di questa sera vi ringrazio la can dava una definizione di realtà come ciò che non si assoggetta al simbolico in questo senso vorrei chiedere alla dottoressa se i sogni costituiscono qualcosa di reale rispondo io cioè non per la dottoressa rispondo per me che dico sicuramente io quando sogno per me quella è la realtà e questa è la mia risposta da sciocco profano sentiamo quella adesso la dottoressa Marina non posso che essere d'accordo anche io su questo ci ho preso allora ma no ci ho preso io pure magari sbagliamo tutte e due e chi lo sa ma è reale il sogno maledettamente reale senza arrivare ai sogni lucidi che sono ancora più reali ma è nel corpo questo se diciamo reale vuol dire sudare ci sono i sensi ci sono i sensi e quindi come fa ad un essere reale delle volte ci si sveglia e sembra quasi di essere usciti dalla realtà e essere entrati in un sogno eh sì quindi domenico sì il sogno è reale dal punto di vista simbolico è interessante siamo qui seduti tutta la radio è appoggiata su un bel tavolo di legno e per la prima volta e questo ha un valore simbolico la maschera del lupo è lontanissima alla fine del tavolo lontanissima è bella eh sì beh prima in questa prima parte di trasmissione abbiamo già messo sul tavolo tanti argomenti che potrebbero ognuno essere approfonditi all'inizio abbiamo parlato dell'inconscio collettivo mi piacerebbe provare ad approfondire questo aspetto cioè quanto gli aspetti sociali politici di un'epoca incidono sui simboli e sui sogni se ci puoi fare anche qualche esempio di questo sì brevi cenni sull'universo perché sì certamente si apre un enorme spazio noi siamo prodotto dal mondo in cui viviamo ecostruttori nel mondo in cui viviamo quindi come si fa a pensare che le situazioni politiche sociali religiose culturali nel senso lato non influiscano e non influiscano molto pesantemente sul nel bene e nel male sulla la psiche individuale quindi anche sull'evoluzione l'evoluzione o il cambiamento dei simboli all'interno dei sogni ma guarda la parola simbolo bisogna stare attenti a come la si usa perché sì il simbolo vuole dire qualcosa che in realtà è l'immagine rappresentativa di qualcos'altro che non si rappresenta un libro può essere l'immagine di una cultura la cultura non la tocchi così il libro lo tocchi quindi il darsi la mano e quindi è un simbolo il darsi la mano nella nostra cultura è di per sé un segno un gesto assolutamente strano invece nella nostra cultura significa nel nostro sentire comune è mi fido di te non ho le armi in mano ti manifesto simpatia interesse fiducia eccetera questi sono simboli valgono per un gruppo per una persona ma non sono immagini che valgono per tutti le immagini che valgono per tutti si chiamano immagini archetipiche ma sono diverse hanno proprio una qualità diversa infatti in una domanda dalla vostra scaletta c'è proprio questo come mai i sogni dove si parla di miti di antiche storie eccetera hanno un valore maggiore non è che hanno un valore maggiore hanno un valore diverso perché si riferiscono alla collettività invece che al singolo e quindi parlano di qualcosa che riguarda tutti il tutti è geografico è storico cioè nel Maghreb o a Tokyo oppure nel nord del Canada il sangue vuole dire la stessa cosa energia vitale in qualunque cultura quindi il tutti è incluso ma il sangue quando si sogna il sangue sappiamo che abbiamo a che fare con un'immagine archetipica facciamo attenzione perché poi il sangue può essere anche invece in quel sogno lì non un'immagine archetipica ma assolutamente personale perché? perché magari è stato morsicato da un serpente il giorno prima e c'è tutto ancora il sangue che è rappreso allora è evidente che si inserisce un dato personale però sappiamo che può essere un'immagine universale e quindi dovremmo vedere di fare la differenza non so forse ho perso il filo che cosa mi stavi chiedendo tu? ti stavo chiedendo se gli sviluppi politici sociali di un'epoca influiscono sui simboli sì influiscono sui simboli influiscono però sempre tenendo conto della differenza fra immagine archetipica e simbolo perché nella simbologia l'immagine archetipica può cambiare ma cambia molto lentamente non cambia con la velocità con cui cambiano i simboli personali i simboli personali possono cambiare con enorme rapidità invece quelli archetipici no perché riguardano tutti e quindi sono più lenti a cambiare cambiano eh vi faccio un esempio il cavallo fino ai tempi di Freud e di Jung il cavallo era l'immagine dell'identità in movimento la casa la capanna a seconda di dove ci si trova la tenda sono invece l'immagine dell'identità stabile fissa che non si muove quel nucleo che rimane uguale il cavallo era l'immagine dell'identità che si muove io sto facendo questo progetto questo spero questo vado in quella direzione adesso il cavallo non mi è più usato così che è che può però ci sono voluti 50 60 anni ma neanche tanto mi viene da dire neanche tanto alla fine sono epoche nostre quasi sono epoche nostre sì ma perché adesso tutto cambia molto più velocemente di una volta il cavallo lo è stato per migliaia di anni ecco qui ti volevo e noi invece adesso wow wow cambiamo continuamente non ci si sta dietro e allora il cavallo è diventato un simbolo legato all'istinto all'energia focosa del eroente un'energia di fuoco è là che c'è nei sogni ma non è più un'immagine dell'identità in movimento dov'è l'immagine dell'identità in movimento molto complicata oggi perché perché abbiamo quelli collettivi gli autobus i treni gli aerei poi abbiamo le macchine le moto e a seconda di che cosa da persona sogna noi vediamo un cambiamento quindi è vero che le realtà sociali e politiche alterano anche profondamente nel tempo il valore dei simboli e anche l'innovazione dei simboli però è anche vero che non tutti cambiano nello stesso modo e alla stessa velocità sul cavallo noi abbiamo no tu hai una tua teoria no io condivido diciamola anche cosa pensi del cavallo quando hai citato il cavallo noi ci siamo guardati perché è venuta fuori in varie puntate questa storia del cavallo puntate musicali abbiamo notato che il cavallo compare nei testi di musica italiana anche testi famosi quando oh oh cavallo questa è una del milanesissimo vecchioni l'interpretazione più o meno vicina più o meno vera è che quando compare il cavallo all'interno di chi scrive la canzone avviene un cambiamento grosso era in una fase di stallo di fermo quando compare il cavallo gli cambia la canzone c'è un click nel testo della canzone nella musica della canzone magari quello che canta non lo sa però intanto voi lo avete sentito però intanto la scritta pfm ad esempio impressioni di settembre il cavallo di impressioni di settembre sì premiata forneria marconi impressioni di settembre la comparsa del cavallo in quella canzone cambia lo stato della secondo me almeno ascoltandola che prima era uno stato depresso quando compare il cavallo cambia cambia qualcosa comunque quali sul cavallo opinione di Antonello sì opinione mia è opinione lettura musicale alternativa ecco esatto potrebbe essere interessante comunque fare una lettura dei testi delle canzoni italiane in questa chiave molto molto invece volevi dire qualcosa Damiano tu no ascolto un altro aspetto che più o meno su questa onda di cui stiamo trattando che mi piacerebbe approfondire con te Marina riguarda forse un aspetto un po' più tecnico nel senso che c'è una parte visuale del sogno mi ricordo qualche qualche mese fa abbiamo fatto una puntata insieme a dei non vedenti abbiamo fatto delle esperienze insieme a loro abbiamo fatto anche una puntata a radio e io ho fatto una domanda all'uno di loro chiedendogli com'è che sognate cioè cosa vedete poi dopo cosa vi ricordate e loro tutti mi hanno risposto che vedevano delle scene scusa erano non vedenti o erano ipovedenti allora sì anche lì c'è una differenza c'erano alcuni non vedenti dalla nascita che non sono riuscito a capire bene la loro descrizione perché parlavano di colori parlavano di sagome quindi comunque alcune un'immagine c'era invece i non vedenti che hanno comunque un passato avevano dell'immagine come le ha un vedente comunque quell'aspetto lì del sogno in persone non vedenti mi sembrava interessantissimo da quella sera da parlare mi aggancio a questo ricordo perché c'è un altro aspetto che mi interessa dicevo approfondire con te noi viviamo in un'epoca in cui anche la virtualità gli schermi sono aumentati tantissimo quindi la mia domanda è questo questo cambiamento questo aumento di virtualità aumento degli schermi incide secondo te anche negli aspetti visuali di un sogno sì io non ho notato una trasformazione ancora perlomeno in base alla mia esperienza quindi vale niente quello che vale di una trasformazione simbolica legata al virtuale quello che ho sperimentato cioè in pratica non sognano telefonini schermi pc social non 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 sognano questo non ho quasi memoria di sogni di questo genere il sogno quello dove incide in un modo devastante anche e anche molto creativo in altri è nella nella vita conscia nella vita conscia veramente assistiamo a una assistiamo a una trasformazione antropologica proprio una volta se ne parlava con Emanuele e lui sosteneva che è verissimo che si attenuano i sensi lenti per esempio perché la gente guarda e ascolta ma non non tocca non annusa e non ha il gusto perde si perdono era la domanda che mi ero appuntato per farti quindi è stato un abiro premonitrice possiamo dire perché però anche questo invece è un'osservazione che faccio io che incide sul comportamento per esempio sulla sessualità in modo molto vistoso le nuove generazioni ce ne parli un po' si beh insomma i giovani molti giovani si può dire in base al mio lavoro clinico ma anche in base perché vedo i giovani anche fuori dallo studio mi è capitato tante volte di venire a sapere che in realtà la sessualità preferita è la sessualità davanti a un porno davanti a un porno a un videoporno attraverso l'autorotismo ora quando poi chiedevo ma come mai ma non è meglio avere a che fare con un essere umano mi diceva meno fatica meno fatica meno sforzo meno impegno meno delusioni meno 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 rischi meno sofferenza meno intensità e meno intensità e si e anche si però non è solo proprio riferito alla relazione relazione si relazione no e anche che finisce la capacità dell'immaginario perché c'è qualcuno che immagina per te e questo è un danno è un danno secondo me significativo alla personalità senza immaginazione che cosa sia ma qui apri chiudo apri allora finché il primo che ha inventato il cinematografo allora ha tolto tutta una serie di di diciamo anche non immaginazioni ma fantasticherie che magari potevano avvenire le persone prima che andassero a vedere uno schermo con un treno che gli veniva contro che non era vero però loro credevano che gli venisse contro secondo me oppure può essere anche il contrario cioè il cinema ha accentuato la capacità perché racconta è come una fiaba non è che allora il bambino non ha più fantasia perché la mamma gli racconta una fiaba anzi impara che si può fantasticare e amplificare la fantasia che il sogno racconta e il porno che non racconta il porno racconta e al posto tuo è diverso si mette proprio al posto tuo si mette al posto tuo allora tu diventi passivo diventi consumatore e non diventi invece creatore del piacere in questo caso e questa è una differenza notevole fra l'altro non per farci i complimenti da sole che non va mai bene però noi stiamo a fare la radio che è proprio una roba antichissima quando potremmo fare altre cose quando potremmo fare i porno non so porno radio dai porno radio ci penso dai ci pensiamoci la musica ce l'abbiamo la musica non è un problema abbiamo anche il T avremmo anche il titolo però non lasciamo stare ne parliamo un'altra volta prossimo gradino avevo un'impellenza se è corto se è corto il brano se non ho un brano corto però se è troppo non vorrei poi guarda sta cosa del fatto che si sogna vedendo a scapito di altri sensi non si tocca non si annusa non si ascolta ma perché è un condizionamento anche questo il fatto di 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 sognare per immagini prevalentemente basta o no perché si sogna più per come mai l'essere umano è più visivo piuttosto che e qui l'ho detto corretto piuttosto che nel senso che lo dico sempre così piuttosto che cinestetico piuttosto piuttosto che uditivo eccetera eccetera perché si sogna per immagini e non lo so Antonello a chi lo chiediamo a chi facciamo queste domande se non adesso adesso c'è il pezzo due esatto pezzo due non lo so però una tua teoria non lo so perché si sogna per immagini prevalentemente per immagini perché senza l'immagine come facciamo a sognare ma non si può sognare un suono ad esempio solo un suono perché ci sono le allucinazioni sonore credo che si possa anche fare un sogno sonore allora stai dimostrando che è possibile è possibile normalmente nella tua esperienza anche clinica nessuno mi ha mai detto ho sognato un suono o che qualcuno mi toccava sì però e sentivo nel corpo che mi toccavano accidenti questo ad esempio è già una cosa diversa una spalla rispetto alla visuale al vedere e basta sì sì è vero è vero dicevo prima che i sensi che i sensi sono dentro nel sogno sì la vista di solito è molto importante però non è solo la vista non è solo la vista però sembra che prevalga con intensità diverse però è possibile per esempio il tatto sì è possibile qualche volta anche avere proprio la sensazione di toccare un tessuto di toccare qualcosa di durante il sogno adesso sono le otto però voglio dire si eiacula anche c'è chi sì questo anche senza sogni questo anche senza sogni però uno si sveglia magari un umidiccio da qualche parte che sia la pipì o che sia non lo so ma volevi mettere un brano perché la situazione liquida la lasciamo metto un brano che si intitola un vado a prendere dell'acqua vai a prendere dell'acqua sì grazie ma leggiamo leggiamo cosa chiede cosa chiede Roberto Brancati di cui avremo e avrete notizie molto molto presto da parte di Lupo e Contadino chi vuole fare una domanda alla dottoressa Roberto si occupa di sogno lucido fa proprio dei corsi e dei seminari ed è molto interessante anche come li fa e chiede qual è la via o le vie per rispondere alla richiesta di dialogo che si sottopone la nostra psiche profonda tre libri di leggere che l'ho letta male in chiave non di domanda dunque io vorrei fare una domanda alla dottoressa ok qual è la via o le vie per rispondere per rispondere alla richiesta di dialogo che ci sottopone la nostra psiche profonda di dialogo con chi di dialogo immagino con quell'inconscio di cui hai ampiamente parlato all'inizio e del sognatore direi poi Roberto magari correggimi se ho letto male cioè come si può rispondere in effetti era venuta in mente anche a me la domanda non lo so forse io non ho capito la domanda ma attraverso l'interpretazione ecco ecco questa già può essere una risposta inconscio chiama sognatore risponde qual è la via o la via migliore diciamo preferibile con te faccio l'analista e quindi per me il senso del sogno è quello di essere rivelato quindi l'inconscio ha un suo linguaggio che deve essere decodificato come una lingua come parlare un'altra lingua noi abbiamo dovremmo avere gli strumenti per decodificare questo linguaggio allora la psiche inconscia manda un segnale alla coscienza attraverso il ricordo di un sogno e noi il nostro compito è dire guarda il sogno ti sta dicendo questo allora questo comporta delle conseguenze sempre sempre i sogni non parlano a vanvera e dicono la verità quindi dicono la verità perché la sanno sanno quello che noi non sappiamo quindi il sogno rivelato svolge la sua funzione di contatto utile utilizzabile per una trasformazione per esempio per un cambiamento per una presa di coscienza per la distruzione di un rapporto per la ricostruzione di un rapporto per un cambio di vita per tutto quello che volete ma sono cose estremamente concrete pratiche della vita quotidiana il sogno dà un grande aiuto in questo senso ma proprio grande 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 il sogno serve la vita come direbbe Mina grande 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 il sogno serve la vita sì ecco esattamente sai cosa ho sognato ieri stamattina ho sognato anche che intervistavamo te ma però non ricordo bene dove eravamo ieri invece ho sognato un gattino un gattino beige che entrava in macchina da una parte del cruscotto si infilava dentro poi faceva tutto il giro andava intorno ai bottoni o lo sterzo eccetera poi metteva fuori la testa dall'altra parte e poi entrava a destra e usciva a sinistra con la testolina e gli piaceva molto stare lì non mi interessa assolutamente l'interpretazione non posso neanche farlo infatti no voglio dire a meno che non lo vai fare tu l'interpretazione puoi iniziare a interpretarlo no non lo farò neanche io era molto dolce però mi inserisco in questo perché rispetto all'interpretazione è chiaro che un'autointerpretazione del sogno è possibile è difficile va fatta secondo te si può tentare si fanno i peggio casini perché non c'è è come parlare una lingua che non conosci magli non puoi è difficile azzeccarla insomma è difficile l'autointerpretazione non la consiglierei mai a una persona che non ha fatto una ricerca magari a una persona analizzata sì ma non a una persona che non ha mai fatto un'analisi che quindi non conosce neanche il linguaggio per averlo sentito il linguaggio interpretativo e invece e invece si possono fare altre cose per esempio scriverli e rileggerli perché i sogni funzionano parlano funzionano una brutta parola non mi piace ma insomma i sogni fanno quello che devono fare fanno il loro mestiere quando toccano delle corde dell'anima quando riescono a trovare il contatto con l'anima di chi ha sognato se uno fa un suono sarà sognato così basta finito se lo perde se invece lo scrive e poi magari lo rilegge e poi si lascia cerca di entrarci dentro nel sogno e e sente l'emozione il tipo di emozione come quello che dicevi tu adesso era morbido era dolce era carino ecco allora qualche cosa succede anche se tu non sai che cosa succede perché non lo sai però qualcosa succede fa il suo compito in qualche modo lo stesso ma la prima cosa che ti dà e il parlo per esperienza personale poi ne abbiamo anche parlato con lupi e contadini è che ti dà tanta energia questa cosa qui il fatto di di scriverlo disegnarlo danzarlo suonarlo cantarlo per renderlo poetico questo comunque ti dà tanta tanta energia e questa è pratica come dicevamo sono credente non praticante invece il contrario sognatore praticante cioè non credente ma solo praticante ecco insomma è tornare e tornare dentro che poi è quello che io faccio come analista cioè quando io comincio ad analizzare un sogno e lo cercavo di insegnarlo anche questo con un po' con successo però e agli studenti quando ci lavoravo era che non il sogno non lo devi guardare in senso in modo tecnico cioè ha sognato un serpente dunque il serpente cosa vuol dire il serpente vuole dire questo 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 ha sognato la mamma la mamma vuole dire questo il serpente e la mamma vogliono dire questa cosa questo è quasi sicuramente un modo di cannare un sogno invece il invece è la storia che lui o lei ti racconta dove c'è dentro la mamma il serpente e tu entri dentro questo sogno la mamma è seduta sulla panchina davanti a te in questi giardini c'è un serpente fra di voi adesso vado prima cosa che mi è venuta in mente è di un sogno vecchio di qualcuno allora provi a entrare tu sognatore quando ti svegli oppure l'analista lo fa come lavoro entra nel sogno entra anche io sono in quel giardino io vedo quella donna io vedo quella ragazza io vedo quel serpente entro dentro e accompagni allora dopo 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 possiamo fare una decodificazione simbolica ma allora cominciamo a sentire che il serpente che può essere tante cose dentro un sogno vuole dire quella cosa lì dentro in quel sogno e non un altro indagando lo stato d'animo del sognatore cerchi di avere uno stato d'animo simile cerchi di medesimarti dentro nel sogno allora lo riesci a capire se no fai un lavoro da ragioniere esatto quindi anche diciamo anche l'archetipo si 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 aggancia si appiccica era come se fosse una vernice che la butti addosso e rapprende e prende un po' la forma del sognatore cos'è l'archetipo cosa intendi come l'archetipo le immagini riconosciute come tali l'immagine archetipica esatto il serpente è un'immagine archetipica non è un archetipo ah scusa si si ecco l'archetipo non si tocca non si vede ah c'è ma non si vede l'archetipo non si la trasformazione non la vedi il serpente può essere un simbolo universale di trasformazione è un'immagine archetipica della trasformazione però può essere un'immagine archetipica anche di altre cose in questo caso dipende dal sognatore certo per quello che devi entrare nella testa io cercavo cercavo di spiegare questa cosa qui non so ma non ha mai avuto successo questo mio consiglio di entrare nel sogno degli altri non aveva molto successo però è vero che un serpente a seconda del colore della forma della posizione di chi lo sogna delle impressioni che gli fa può essere cose molto diverse e non puoi farle coincidere capire di niente è un po' come rimane scrivere il sogno e poi rileggerselo rimane nel mondo dei racconti nel mondo delle canzoni alcune canzoni alcuni racconti non c'è bisogno di interpretarle non c'è bisogno per forza di spiegare le strofe agisce a un altro livello secondo me agisce agisce comunque a parte che stanno arrivando altre domande che magari le riprendiamo però mi interessa anche prendendo spunto dal libro che abbiamo qui davanti il coraggio della felicità appunti sulla psicanalisi nel tempo presente intanto la domanda la prima domanda è qual è la tua definizione di felicità io non do definizioni della felicità perché la felicità è qualcosa di diverso per ognuno di noi non credo che la mia di Salvini sia la stessa allora che cosa è la mia idea di felicità questo te lo posso dire è la libertà ed è una libertà molto concreta la libertà in una relazione d'amore la libertà in una relazione di amicizia la libertà di pensare con la propria testa la libertà di andare di tornare poi cosa posso dire ancora la libertà è il principio informatore della mia vita e questa è la mia felicità quando io mi sento libera anche di stare da sola i viaggi più belli che ho fatto li ho fatti da sola perché dà questa sensazione tu la macchina la musica basta è fatta io colgo colgo già colgo già la preposizione libertà di innanzitutto non libertà da che sarebbe tutta un'altra cosa la libertà di e tu hai detto una dieci di libertà di libertà di libertà di quindi già l'applauso già l'applauso già l'applauso si sta felicità e libertà sì felicità e libertà anche di essere triste forse sì ma attenzione per me forse per te forse per te ma ci sono persone che detestano la libertà la libertà intesa in questo senso non la libertà di votare o di rinno no no certo parlacene un po' e perché perché viviamo in un modello sociale che scoraggia 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 questa libertà la creatività scoraggia scoraggia la libertà certo per esempio un esempio scoraggia la libertà di pensiero perché non si sa più che la differenza che c'è fra imparare sapere e pensare sono cose diverse tu puoi imparare e sapere e non avere mai avuto un pensiero nella tua vita e molti giovani oggi credono confondono questo quindi non sono liberi perché loro imparano quello che già è stato pensato capiscono e sanno delle nozioni delle cose ma non le hanno elaborate con la loro con la loro testa quindi non sono persone libere secondo me manca la libertà in questo in questo io trovo che un grande esercizio quello anche di allenarsi su parole difficili come possono essere la felicità o la libertà cioè come dicevi tu ognuno può avere ognuno ha la sua via per la felicità ha il suo modo per la felicità ci sono queste parole che a me piacciono tanto nella lingua cercare di più che definirle però cercare di trovare le strade all'interno di queste parole le tue strade all'interno di queste parole che rimangono forse volutamente generiche la felicità la libertà l'amore ce ne sono tante però io ho cercato di dare degli esempi concreti di che cosa volevo dire con libertà proprio perché non mi piace di sparare idee come fuoche d'artificio è concreta quando tu dici la libertà è in una relazione d'amore è molto minoritaria la gente non la vuole quella libertà la maggioranza non la vuole quando tu dici la libertà di stare sola tu dici qualcosa che la gente non vuole odia la solitudine la vive come una disgrazia il mondo è fatto te lo dice anche il supermercato per stare almeno in due magari in di più ma ti danno le dosi è chiaro il condizionamento è forte su questo non ci sono dubbi rispetto per continuare questo discorso c'è un altro passaggio nel tuo libro che io ho trovato molto interessante in uno parli del piacere della paura quello spazio psichico in cui ci si mette alla prova poi dici anche è necessaria un'educazione al coraggio e che questo genere di educazione oggi è minoritaria ci puoi un po' parlare di questo? sì noi siamo una specie avventurosa e non siamo criceti noi siamo una specie avventurosa abbiamo il desiderio di andare dove non si è andati di vedere quello che non abbiamo visto di capire quello che non abbiamo capito di esplorare in tutti gli aspetti possibili della nostra vita questo quindi se tradiamo questo questo dato istintivo nella nostra specie guardate i bambini appena quando sono piccolissimi infilano le dita nelle prese si buttano dal balcone se non li prendi perché l'istinto fortissimo è di andare dove a fare quello che non hanno mai fatto è lo spirito d'avventura proprio una volta ho scoperto mio figlio piccolissimo che aveva aperto il frigorifero basso che c'era avevo allora e l'ho visto che con una specie di bava marrone che gli scivolava dalle lapre l'aspetto disgustato perché aveva mangiato un dado da brodo ma aveva mangiato un dado perché aveva la cartina d'argento e poteva essere una caramella grandissima esperienza anche io l'ho fatta anche tu? ti è venuta sete dopo? almeno però sono segnali che arrivano fin dall'inizio della vita e che ti dicono io devo andare io devo fare quello che non ho io rischio io rischio io mangio il dado e se se questo amore per l'avventura questo istinto che poi diventa interesse amore insomma dipende anche dalle persone se se questo istinto viene represso e beh dopo non c'è più nell'inconscio e produce dei sintomi che poi potrebbe essere interessanti di vedere comunque allora non siamo più avventurosi non amiamo più il rischio veniamo educati alla sicurezza a essere garantiti veniamo veniamo educati a riconoscere tutti i rischi possibili e immaginabili in tutte le situazioni attento non sederti lì ci può essere una siringa attento se incontri qualcuno che ti offre la caramella attento quando attraversi perché gli altri non guardano attento perché così attento 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 allora si diventa pavidi l'avventura va nell'inconscio e però c'è perché è un istinto l'istinto non può morire e il coraggio non ha più motivo di essere perché non c'è bisogno il coraggio di che coraggio è una cosa è una parola quasi non si usa molto sono due parole che mi colpisce mi colpisce tanto di di vedere che non sono più frequentate uno è il coraggio e l'altro l'onore onore e coraggio sì sono parole quasi fasciste nell'immaginario mentre dobbiamo ripropriarcene forse perché l'onore non è quella cosa che sta tra le gambe delle donne e non è neanche la mafia e non è neanche la medaglia sul soldato l'onore è la fiducia alla parola data è comportarsi secondo la propria legge è pagare se si sbaglia è riconoscere i propri torti questo è l'onore è tener fede ai propri impegni non so e questo non mi sembra fascista a me e poi il coraggio appunto il coraggio è bisogna bisogna che sia riconosciuto il valore del coraggio se il valore del coraggio non è riconosciuto cosa fai lì? le mamme le zie le donne i papali no allora no invece vai ho fiducia in te vai vai prova prova e se cado e beh se cadi poi ti rialzi questa è l'educazione al coraggio perché incoraggia l'avventura incoraggia incoraggia anche di individuare le passioni che uno ha uno dice in bicicletta non vado più ma invece voglio fare un'altra cosa la repressione del repressione dell'istinto avventuroso attraverso la paura e quindi attraverso l'attenuazione del coraggio produce sintomi nel tempo perché appunto come vi dicevo questa cosa rimane lì e poi viene fuori come come sintomo quindi come violenza come mobbing come stalking come 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 negatività come come se si avvelenasse e diventasse qualcosa di malo di cattivo invece che di buono cioè l'avventura che cos'è correre in moto contro mano andare a dare fastidio a questa a quella gente bruciare l'emigrato che dorme è questo si gira prende prende un'altra forma quindi non è non è innocente la forma che prende rimane diciamo a livello pur gravissimo a livello mentale psicologico oppure si può sfogare anche in patologie nel corpo anche con insomma malattie che non nominiamo ma che ci immaginiamo tutti data la gravità di quello che fa si diventa autodistruttiva autodistruttiva su tutta la linea nella mente del corpo si è un'energia di fuoco quindi per esempio possono esserci dermatiti possono esserci i primi segnali magari possono essere proprio sulla pelle proprio quelli sulla pelle ma poi naturalmente tutte le malattie della pelle possono avere altre origini sicuramente non vorremmo essere fraintesi non è una domanda giusto però sì certo che sì per precisare certo altro che si diventa molto autodistruttivi ho lavorato tanto in carcere proprio con persone che sono diventate infatti poi volevo poi anche arrivare lì ma prima volevo chiedere ad Antonello tu come la vivi con tuo figlio questo vai attraversa la strada i famosi fari nella notte di Lucio Battisti i fari spenti nella notte oppure sei prudente ansioso quanti anni ha quattro anni quindi vuoi proprio entrare io un po' lo so già ve lo diciamo mi interessa un po' a tutti la risposta breve la risposta breve è che io cerco ma lo faccio anche abbastanza in maniera naturale di fare la parte del vai vai faccio quel pezzo lì e poi dopo c'è anche chi fa l'altro pezzo io cerco di spingerlo a provare comunque a parte questo mentre Marina parlava stavo anche riflettendo sul fatto che la mancanza di coraggio forse può dipendere anche da una forma di saturazione dell'avventura cioè la volta scorsa la puntata scorsa abbiamo fatto una puntata sulle mappe ad esempio c'era con noi Farinelli era una puntata interessante fra l'altro chi non l'ha ascoltata potrebbe riascoltarla le mappe hanno avuto una saturazione noi oggi abbiamo mappato qualsiasi cosa quando ci muoviamo utilizziamo sempre delle mappe per spostarci questo secondo me è una buona metafora a vari livelli di questa saturazione cioè la saturazione di un certo tipo di immaginario comunque produce più che una mancanza di coraggio proprio una scarsa voglia di mettere alla prova la propria paura perché appunto è tutto è tutto talmente iper controllato che dice dove posso mai provare questa paura questo è un po' anche cioè tutto pronto dici eh sì dal supermercato cinese o meno che sia però che hanno tutto anche una puntata sull'uso delle mani sai che è sempre lì bravo contadino anzi aspirante bravo contadino l'uso delle mani è importante l'uso del corpo vabbè questo non voglio divagare troppo però sì bella domanda sentiamo la risposta non so se è una domanda ma è una considerazione che sicuramente è una considerazione sì però lo scopo non è la paura la paura è il mezzo lo scopo è l'avventura che non è la paura dentro nell'avventura ci sta anche la paura naturalmente tutte le fiabe no eh sì e vai nel bosco perché vai nel bosco non è che hai paura prima hai paura dopo perché hai voglia di vedere il bosco da solo il bambino la bambina e e poi quando raccoglie le fragole dopo ha paura perché arriva il lupo allora c'è la paura e dopo e dopo c'è tutta la storia che poi finisce bene di solito però è qui la paura non è mai lo scopo se no c'è qualcosa di patologico non siamo nati per avere paura la paura c'è e un sentimento va affrontata ma va affrontata per qualche cosa che ha un valore se no anche questo diventa anche politicamente pericoloso eh quando lo scopo è la paura per carità eh sì sì assolutamente non vorrei dire però sono le 20 e 55 purtroppo e quindi abbiamo ci rimane pochissimo tempo e tu volevi approfondire anche un po' il ultimo l'ultimo pezzo della della scaletta un pochino un pochino sì facciamo così mandiamo un brano che questo lo devo mettere proprio obbligatorio poi magari dai dieci minuti in più ci stanno dai va bene ritorniamo in questa puntata intensissima ultimo pezzo sforiamo di cinque minuti sette minuti perdono più o meno ci perdoni oppure ci ringrazio dipende infatti Damiano c'è Alessio che chiedeva chiedevo una cosa e una domanda che ovviamente farei anch'io semplice in realtà come tutte le belle domande quanto un sogno condiziona poi la vita di veglia la vita quotidiana di un individuo ma quale sogno dipende dal sogno certamente il sogno parla come dire e sarebbe come dire quanto la conversazione che abbiamo fatto oggi influenzerà la nostra vita ma forse niente forse qualcosa magari un'altra conversazione un'altra cosa non possiamo non possiamo definire tutto però una tendenza cioè la domanda la faccio io allora tutti i sogni ci sono sogni innocui oppure anche solo per un grammo usiamo questo influiscono sulla vita o no influiscono sulla vita se il sognatore riesce a entrare in contatto col suo sogno a coglierlo a sentirne l'emozione a quello che dicevamo l'altra volta ve l'avevo detto che l'inconscio non parlava e che viene sempre a dire qualcosa per aiutarci quindi lo scopo è di darci una mano c'è sempre questo in qualunque sogno però se uno non lo guarda se non ci entra dentro dici che il sogno se ne va assolutamente o non è ecco è come se non l'avesse fatto è come uno che sta a sentire uno che parla ma non lo ascolta perché alcuni sogni o alcuni periodi non ci si ricorda dei sogni ci sono delle fasi in cui i sogni non rimane niente dei sogni chi lo sa ma qualche volta è perché Jung diceva che qualche volta i sognatori quello che di solito sognano passano dei periodi senza sognare perché non ce l'ha bisogno perché l'inconscio vuole che sia la coscienza a parlare questo può essere una delle spiegazioni ce ne possono anche essere altre però diciamo che sono tutte ipotesi perché non sono dimostrabili empiricamente queste quindi l'inconscio suona la campana più forte che può e la forza può essere determinata dall'emozione da quanto emotivamente ti coinvolge un sogno un incubo addirittura sì cioè un sogno che ti emoziona poco magari lo lasci cadere nell'oblio più volentieri è una domanda non lo so può essere più ti emoziona più vuol dire che ha una certa importanza impatto giusto? però qualche volta ci sono dei discorsi che siccome la persona non riesce a capire cosa vogliono dire non si riesce a emozionare perché non capisce che cosa vogliono dire c'è anche questo è complicato è davvero complicato sì sì è tanto complicato che abbiamo deciso di vedi come sono bravo a cogliere i ganci abbiamo deciso di portarlo anche di portarlo anche non in un'aula diciamo così magna ma in un in un bel posto anzi in più di un bel posto sicuramente a Bologna ma direi anche a Milano questo non so se te l'avevamo detto no no non so di cosa stai parlando ci arrivo pian piano ci arrivo più piano piano stiamo facendo una cosa che dovremmo fare fuori dalla vita sì assolutamente assolutamente assumi le responsabilità condivise condivise no stiamo preparando quattro incontri con Marina e quattro per due nel senso che magari quattro li facciamo a Milano e quattro li facciamo a Bologna e questo lei non lo sapeva mi sta guardando è un'ipotesi o magari diventano 16 perché poi le città sono anche altre che aspettano magari questo tipo di risposte e i temi ovviamente sarà il sogno e sarà il sogno soprattutto quelli che citava prima un incontro potrebbe essere sull'inconscio collettivo l'altro sull'inconscio personale e le differenze che ci sono fra i due e poi leggo proprio dormire forse sognare enigma storie futuro dei sogni simboli e sogni drammi e meraviglie nell'interpretazione del sogno e gli incubi demoni o doni preziosi questo può essere un pochino i quattro moschettieri i quattro dell'ave maria insomma non lo so i quattro temi i quattro titoli i quattro semplici titoli che possiamo dirlo porteremo già nel periodo di maggio e di giugno a Bologna a Bologna e anche in altre città vediamo se non diciamo troppo però dai insomma non diciamo troppo anche perché va ne dobbiamo prima parlare ne dobbiamo preparare magari parlarne con me ti interessa ti interessa vuoi saperne anche tu la mia opinione bene volevi chiudere no direi che possiamo perché abbiamo sforato i cinque minuti mettiamo il brano di chiusura buonanotte buoni sogni ringraziamo tutti gli ascoltatori come al solito che ci hanno seguito in diretta hanno scritto abbiamo letto leggeremo dopo anche tutti i vari messaggi ringraziamo anche chi ci ascolterà nei prossimi giorni nei prossimi anni chi lo sa perché la puntata questa è una di quelle puntate che rimarranno disponibili sempre sul lupo del contadino e scaricabili anche in mp3 grazie soprattutto a Marina Valcarenghi per essere stata qui con noi in diretta e per averci ospitato grazie a voi davvero a presto